La mia opinione è che il governo sia nel giusto assolutamente, nel senso che questa idea si pone a tutela sicuramente del bambino. A mio avviso, ma penso avviso anche di Fratelli d'Italia, non esiste il diritto ad essere genitore, esiste il diritto ad essere figlio e essere tutelato come figlio. A mio avviso, un figlio deve avere una mamma e un papà, che sono due componenti fondamentali perché credo che ogni mamma e ogni papà, quindi genere diverso, ha comunque contributo diverso al bambino e alla sua crescita. Gli uffici del Comune si sono detti però pronti a questa registrazione? Sì, si sono detti pronti. Oggi come oggi non è una pratica legale, pertanto non potranno farlo, io aggiungo fortunatamente. L'Unione Europea ha condannato l'esecutivo italiano per lo stop a questa registrazione? Beh, penso tutto il male possibile e immaginabile. Credo che ci sia un'ingerenza un po' troppo elevata, soprattutto nell'ultimo periodo dell'Unione Europea, anche su altri temi, soprattutto su questo. Va a toccare una materia che comunque è contraria ad oggi all'ordine pubblico, perché anche solo il riconoscimento ad oggi in Italia di due papà è contraria all'ordine pubblico italiano. Di conseguenza l'Unione Europea credo che stia ingerendo un po' troppo nell'ordinamento italiano. Ci sarà battaglia comunque su questo tema, perché il 12 maggio a Torino ci sarà una grande mobilitazione di sindaci e amministratori. Sì, sì, assolutamente. Lo so, sì. Dall'altro lato ci sarà comunque una grande battaglia anche del governo attuale e sicuramente anche noi a livello locale ci faremo sentire.